Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, mi dispiace tanto per il sole, ma oggi come vi ho già detto ogni volta che fuori c'è un freddo cani c'è sempre questo sole vestidioso comunque oggi volevo fare una story time, ovvero la mia prima story time e vi parlerò del mio primo arrivo in Canada primo arrivo nel senso quando mi sono trasferita per la magistrale perché io in Canada ce l'ho già venuta l'anno prima per passarci tipo delle mini vacanze però questo è tipo il mio primo arrivo in Canada nel senso che cosa è successo quando mi sono trasferita per la magistrale perché ho avuto tutte le sfiglie del mondo nei soli primi tre giorni allora, prima di tutto io mi sono trasferita nel 2015, novembre 2015, 12 novembre 2015 io sono arrivata in Canada ho alterato a Montreal, ovviamente io studio in una città ovviamente io ho studiato in una città più lontana da Montreal, tipo un'orete e mezza però per fortuna un mio amico che era in Erasmus, come è in Belgio, è venuto a prendermi perché anche lui abita in questa città ovviamente il volo non è stato il peggio del peggio e siamo arrivati con calma io avevo l'indirizzo dell'appartamento dove sarei andata a vivere bene, sono arrivata lì che era abbastanza tardi, erano le sei di pomeriggio sette per me era tipo già l'una di notte, ero veramente stanchissima e sono arrivata in questo appartamento che avevo solo visto su Skype perché ho parlato con il ragazzo e basta quindi sono arrivata, l'appartamento non era niente di che, diciamo la camera era abbastanza piccolina però ho detto vabbè dai, non importa ovviamente dovevo condividere la casa con questo ragazzo con cui ho parlato, una ragazza che non so, non avevo ancora visto è arrivato e ho conosciuto il ragazzo che era appunto Loic e lui mi ha detto appunto guarda questa è la tua stanza, questa è la cucina mi ha fatto un po' vedere in giro lui era francese ed era in Erasmus lì abbiamo un po' parlinchiato così mi ha chiesto un po' come è dato il volo eccetera eccetera poi mi ha detto ma questa ragazza con cui dobbiamo vivere ti ha detto che il suo ragazzo verrà a vivere con noi e mi ha detto io con lei non ci ho parlato onestamente lui mi fa guarda lei si porterà il moroso che abiterà con noi ho detto bene era già comunque un appartamento di tre stanze eravamo già in tre non era un appartamento gigantesco quindi ho detto vabbè ok non posso dire di essere entusiasta dell'idea però vabbè comunque una parte dell'appartamento era diciamo sua quindi vabbè e poi lui mi fa io però non credo di restare ho detto scusami io sono venuta qua perché ho parlato con te fa eh no io non penso di restare perché io non voglio che il suo moroso venga a vivere con noi perché tipo ha due cani giganti io già lì ho detto con Gesù ha due cani giganti e poi loro hanno anche un gatto detto vabbè il gatto non ho problemi però ha dei cani giganti non lo sapevo non che i cani vi facciano paura però onestamente non mi piace vivere con dei cani in un appartamento se avessi la casa avrei un cane ma in appartamento a me i cani non piacciono soprattutto se sono giganti ecco quindi praticamente lui mi fa io penso di cercare altro perché perché appunto non mi entusiasta l'idea poi sono moroso tipo è abbastanza un mezzo criminale io ero là tipo allora figlio mio io non capisco se tu mi stia prendendo per il culo perché sono appena arrivata e sono la novellina oppure mi stai sinceramente dicendo scusami dove c'è che sono arrivata nel The Hood quindi all'inizio ero tipo ok io stavo spacchettando le mie cose pian piano ho detto ok va bene e io ho messo già tutto a posto ho chiamato i miei ho detto sì sì dai è carina la cosa niente di chi però non mi entusiasta comunque la casa e il giorno dopo lui mi fa devo andare all'università per venire con me così vedi un po' il campus siamo andate a vedere un po' il campus eccetera al nostro ritorno la stanza della ragazza era aperta pensavo fosse tornata invece lui fa non lo lascia aperta sempre a una certa lui a una certa lui arriva questo mio coinquilino arriva e ha una pistola in mano cioè io non sto neanche scherzando ha una pistola in mano io lo guardo faccio ma quella cosa è vera? e lui mi fa sì faccio ma è tua? e lui fa no no non è mia è del moroso di questa tizia e ha detto perché è una pistola in mano ti prego vai a metterla giù perché io ho ansia che adesso mi fa parte un colpo e moriamo tutti e due e lui mi tipo si è incazzato tantissimo e ha detto oh mio dio questo tizio ha una pistola in casa ma ti sembra ha una pistola in casa col cazzo basta io non vivo più qua io adesso mi voglio cercare appartamento e ho detto io sto scherzando ma gli ho detto no Fio io ho già messo ho spacchettato tutte le mie valigie e questo tizio parte e adesso mi toccherà vivere con una coppia di cui lei ha due cani giganti è un gatto e lui ha una pistola e tipo è mezzo criminale aiuto vi giuro tipo ho detto mamma voglio tornare a casa e lui alla fine mi fa guarda oggi vado a vedere un appartamento quindi se vuoi venire con me possiamo andare a trasferirci insieme perché comunque ci sono due stanze libere era una casa in realtà non era non era un appartamento e io gli ho detto bene ma quanto costa? mi fa costava diciamo quasi il doppio di quello che avrei pagato in questa casa allora prima mi ho parlato con i miei non ho detto la scosa di criminale della pistola se no mia madre sarebbe schizzata però ho detto guarda non mi piace tanto non è molto centrale insomma mi sono evitata un po' di scuse mia madre fa guarda fai come puoi perché all'inizio siccome erano i miei che mi aiutavano con la casa e con l'affitto allora volevo parlarne con loro poi quando ho trovato un lavoro mi fregava niente quindi ora ci siamo andate a visitare questa casa bellissima era una casa a due piani c'erano cinque stanze quindi saremmo state in cinque in casa questa casa era connessa all'altra casa vicina perché c'era la bandieria in comune quindi era connessa quindi eravamo i progetti 11 tutti insieme ed ero emozionata all'idea solo che mi sono sentita un po' in colpa nei confronti di questa ragazza che non ho mai visto che non ho mai visto niente insomma ne sono andata così però ho detto all'unico ho detto puoi per favore tu dirmi tipo che ce ne andiamo perché io non ci ho mai parlato mi sento un po' in colpa e gli ho lasciato tipo dei soldi giusto per quei due o tre giorni in cui sono rimasta e ci siamo trasferiti e tipo abbiamo fatto le valigie e ci siamo trasferiti il giorno stesso in cui abbiamo visitato la casa che la casa era bellissima però c'è nuova eccetera e la proprietaria era una pazza che magari vi farò delle storie a parte quindi ci siamo trasferiti abbiamo fatto we are out of here bye bitches quindi sì ci siamo trasferiti in quella che dopo è stata la mia casa per otto mesi quindi questo è stato un po' il mio traumatico arrivo in Canada che giustamente è per fortuna andato a finire bene però ogni tanto penso al fatto di cosa sarebbe successo se io arrivavo questo tizio non c'era neanche e io alla fine sarei dovuta vivere con una coppia dove doveva una pistola e tipo spaceva droga ok welcome to Canada quindi ragazzi questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto che vi sia divertito un po' perché io non ero molto divertita adesso che ci penso sì sono abbastanza divertita però allora no lo ero noi ci vediamo alla prossima volta ciao ciao